salve a tutti e bentornati nel mio canale un breve video per spiegare un concetto talvolta quando prescrivo farmaci che siano deputati a migliorare l'elezione nell'uomo quindi inibitori delle 5 fosfodi e serasi che impediscono la degradazione della gmp e prescrivo farmaci come ad esempio il tadalafil e questo nome talvolta non è conosciuto dal paziente mi chiede che cosa sia tadalafil è la molecola attiva il principio attivo del famosissimo cialis quindi cialis tadalafil generico tadalafil galenico è la stessa cosa qual è la differenza il cialis è prodotto da un'azienda anzi per l'onestà diciamo che adesso è prescrivibile vendibile anche il telefil che con rispettivo del cialis prodotto da un'azienda italiana sicuramente competitivo anche a livello di costi con anche il tadalafil generico prodotto da altre aziende dopo che il cialis ha perso dopo dieci anni la licenza alcune aziende hanno iniziato a produrre la molecola con veicolanti più o meno simili come anche il tadalafil galenico cosa vuol dire il prodotto galenico è appunto prodotto e confezionato dalla farmacia galenica che ne ha le autorizzazioni e quindi produce essa stessa il farmaco chiaramente con un abbattimento dei costi notevoli non sono qui a sponsorizzare una o due di questi tipo di vendita però sicuramente il galenico ha dei costi nettamente inferiori poi è chiaro ognuno di noi sceglie la bontà del prodotto la sua risposta sono delle terapie che hanno delle risposte soggettive comunque sappiamo che il tadalafil è il principio attivo del cialis quindi dire cialis e dire telefil dire il tadalafil generico dire il tadalafil galenico è la stessa identica cosa beh mi sono permesso di fare questo brevissimo video perché talvolta si danno per scontato concetti semplici che invece giustamente devono essere conosciuti anche perché ogni volta che si prescrive il tadalafil o almeno io personalmente chiedo sempre comunque al paziente di avvisare il proprio cardiologo di fiducia perché ci possono essere dei rifetti sommatori in una persona che ha già in trattamento con farmaci cardiovascolari per cui magari il cardiologo sarà in grado di integrare questa molecola in una terapia cardiologica con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao